Che bella macchina signor Farrell La migliore amica dell'uomo è una Mercedes Lo terrò presente Qualsiasi cosa è possibile quando si crede Qualsiasi cosa è possibile quando si crede Hai un probino figliolo? Sì, alle 5 Infatti, dillo alla mamma Stendili tutti Papà! Ma scusa, non vedi con che rottame devo andare a scuola? Senza offesa, Sam, davvero Ma insomma, non ti dispiace per me? No, mi dispiace per le tre macchine che hai completamente distrutto Ok Carter, come ti sei vestito? Perché? Questo, questo è il mio look da rapper Non ti porto a scuola conciato così Senti, Sam Questo è un metodo che seguiamo al corso di teatro Così entri nel personaggio Lo so, lo so, ma Guarda qua Va bene La ritiriamo